E' la grande occasione per Santiago Orduna, in arte santi, 33 anni, figlio d'arte e marito dell'ex palavolista con un passato a Miss Italia, Lucilla De Luca, guida la regia di una dei club più di prestigio del volley in Modena, naturalizzato italiano con il pensiero sempre all'Argentina. Io quando torno a casa, principalmente mio fratello, mi prende in giro infinitamente perché dice che sono più italiano che argentino, però ovviamente l'Argentina per me significa tanto, noi abbiamo tutta la famiglia, quindi capiscono tutti che il nostro lavoro, il mio lavoro, siamo felici qua e stiamo molto bene in Italia. Sono già nove anni in Italia, questa è la nonna stagione, praticamente cinque che gioco da italiano e ho giocato più stagioni in Italia che in Argentina, beh essere arrivati a Modena sicuramente è stato il top della mia carriera, per la pallavolo diciamo che miglior posto nel mondo, adesso come adesso per giocare a pallavolo credo che sia Modena, si lavora però ci divertiamo pure, a volte si esagerano. E poi il calcio, in Argentina c'è la sua squadra del cuore. Allora io tifo River Plate, i colori del River Plate sono bianco rosso e diciamo il delby del River è il Boca, che i colori sono giallo blu, solo Modena poteva fare, poteva riuscire a che io possa vestire quei colori, quindi è onorato di vestire questa maglia.